Vicenda Pfizer è ancora incerto il futuro dei 25 dipendenti dell'azienda farmaceutica della zona industriale che rischiano il posto di lavoro. Ieri pomeriggio una lunga riunione tra i vertici della Pfizer e le sigle sindacali CGL, CISL, UIL, UGL e CISAL che non ha portato ancora a un accordo dalle parti. Stamattina dunque l'incontro all'Ufficio Provinciale del Lavoro. Le parti su sollecitazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro hanno deciso di incontrarsi nuovamente giorno 4 aprile per tentare una mediazione in seguito alle esposizioni che ognuno di loro oggi ha fatto. Non si sono dunque fatti né passi avanti né passi indietro. I 25 lavoratori rimangono dunque in attesa di nuovi riscontri.